Il centro di previsioni e segnalazioni maree è una specialità del Comune di Venezia e un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Abbiamo riportato l'investimento del Comune su questo servizio ai livelli anteriori all'epoca commissariale, parliamo di circa 534 mila euro all'anno. L'abbiamo fatto dopo aver messo in sicurezza i conti perché siamo convinti che si tratti di un servizio essenziale per la città. Inoltre da un punto di vista organizzativo abbiamo portato il centro maree all'interno della direzione protezione civile superando la precedente istituzione perché in questo modo si riesce ad avere un maggiore coordinamento e una maggiore integrazione con l'intera macchina comunale.